Fermi in attesa di ripartire o in giro a garantire il servizio urbano ed extra cittadino, sono più di 500 gli autobus nel Padovano, anche se sta diventando sempre più difficile coprire tutte le corse. Perché l'emoragia dei conducenti autisti non si arresta, gli ultimi a licenziarsi sono stati nei giorni scorsi. Sono 20 ma non sono gli unici, probabilmente ce ne saranno ancora, perché come purtroppo abbiamo già dovuto dire troppe volte, uno stipendio da fame e orari impossibili costringono queste persone a cercarsi delle alternative. La gente ha capito che a questo punto conviene andare a fare il camionista o conviene andare a fare l'autista per Amazon perché comunque si prendono più soldi. Al problema dei contratti a ripasso si aggiunge ora anche l'accusa pesante del sindacato ADL Cobas che denuncia la grave situazione dei subappalti, sottopagati ai lavoratori chiamati da fuori, nell'ultimo caso addirittura dal Lazio per garantire il trasporto padovano. Viene corrisposto uno stipendio troppo basso, tanto da dover dormire nel deposito degli autobus, accontentandosi dei sacchi a pelo. Loro dicono che hanno procurato degli alloggi ai dipendenti, però non si sa se i dipendenti se li devono pagare o se li paga l'azienda. Se se li devono pagare diventa sicuramente complicato. Se li paga l'azienda mi chiedo quanti soldi Bus Italia dia a questa azienda per poter garantire sia gli stipendi che gli affitti.